Buongiorno, buongiorno oggi, lunedì 16 novembre, la segna stampa di video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo sereno su gran parte del territorio altotesino, andiamo a vedere le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, in regia Mohamed Al-Masmudi, Alto Adige, Parigi, Valeria uccisa dai terroristi, le vittime salgono a 132, caccia all'ottavo membro del commando e Bolzano in mille ai concerti per i rifugiati, una risposta in qualche modo alla paura, alla tensione con il cuore rivolto a Parigi, sempre a Bolzano piani immigrati accampati nell'areale delle ferrovie dello Stato, tutto questo accade a poche centinaia di metri dal centro città, l'SVP perde anche Ortisei, eletto sindaco Tobia Moroder, giunta di Merano, consulenza all'ex spin doctor di Roche, monta la polemica, e poi il fondatore del soccorso alpino e spileologico in provincia di Bolzano, Don Josef Hurton, prete e soccorritore, l'ex parroco di Solda, ha festeggiato i 60 anni di sacerdozio, la cronaca linguatrisca a cura del quotidiano Dolmiten, ovviamente l'apertura ancora dedicata a quello che è accaduto a Parigi, le varie presi di posizione, le varie testimonianze, le rassicurazioni da parte delle forze dell'ordine per quanto riguarda la situazione in provincia di Bolzano, la politica Ortisei ha il nuovo sindaco, si chiama Tobia Moroder e anche Nats Chavez ha il primo cittadino, si chiama Alexander Huberbacher della SVP, ok su ghiaccio, il Bolzano vince il derby contro l'Innsbruck nella serie Ebel, vittoria sul ghiaccio di casa è tutto, vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33.